La zona rossa dispone la chiusura di alcuni negozi con lo stop di alcuni servizi non essenziali. Ci sono esercizi commerciali che sono stati costretti a chiudere la serranda, alcuni nella possibilità di continuare a lavorare con le consegne a domicilio. Mai come in questo momento non bisogna lasciare indietro i commercianti salernitani. Mentre cresce la vendita online dei big dell'e-commerce, si avverte sempre più la necessità di sostenere il commercio salernitano per la valorizzazione e la vendita dei nostri prodotti e la promozione di buoni acquisto per lo shopping natalizio. A sostenerlo con convinzione il capogruppo della nostra libertà Antonio Cammarota che con puro spirito costruttivo ha proposto nei giorni scorsi l'attivazione di una grande piattaforma online e facebook del commercio salernitano. Non sfugge che l'amministrazione comunale ha attivato da tempo una piattaforma online e che altre iniziative sono in essere, ha spiegato ai nostri microfoni il consigliere comunale Antonio Cammarota, ma è di tutta evidenza che esse sono insufficienti, inefficaci e parziali. Occorre invece uno straordinario e urgente sforzo unitario di tutti delle istituzioni, delle associazioni di categoria per istituire la piattaforma web del commercio salernitano. Dobbiamo creare una grande piattaforma online da trasferire sulla pagina facebook sponsorizzata del commercio salernitano. Creare finalmente questo marchio dove concorrono tutto e tutti, le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria, i privati, in modo che sia gratuita l'inserzione, facile l'accesso e possibile l'acquisto. Un'amazon salernitana, un grande centro commerciale virtuale del commercio salernitano che ci servirà oggi per difendere la nostra economia dall'attacco della pandemia, domani per difendere la nostra identità dalla globalizzazione. Ad onor del vero l'assessore al commercio del comune di Salerno aveva già lanciato tempo fa un'app con la quale si poteva dare una mano ai commercianti salernitani. Ad oggi purtroppo siamo in un nuovo lockdown con negozi chiusi. Diventa difficile probabilmente anche per piccoli negozianti, per artigiani, attivare un'applicazione e poter vendere online. È vero quello che dice l'assessore e infatti gliene diamo atto. Il problema è che queste iniziative non sono sufficienti. Prova provata che il consumatore non ne conosce e non va a comprare su quella piattaforma che non è nota proprio a nessuno. Nel commercio la prima regola è che si deve sapere la vetrina dov'è. Se noi non sappiamo dove andare a comprare è inutile dire abbiamo fatto il negozio. Quindi bene ha fatto l'assessore, bene ha fatto Confcommercio. Tra l'altro abbiamo avuto il plauso di Confcommercio su questa proposta e credo che altre dovranno concorrere nella stessa direzione. Il problema vero è che se noi non creiamo un grande lancio pubblicitario in mano pubblica, istituzionale, con eventi di eccezione, immagino per esempio Rocco Ant che presenti questa piattaforma, che sia veramente identitaria, sentita come bandiera del commercio salernitano dove tutti possano proporre, produrre, esporre, vendere, noi non ne usciamo. E va fatto anche subito. Immagino per esempio che per lo shopping natalizio si possa immaginare di acquistare dei buoni nei negozi salernitani e farne regalo ai nostri cari e ai nostri amici per le festività natalizie. Noi andremo avanti con questa iniziativa. Ci sono ancora i tempi per fare questo. Lei è da un riscontro con i commercianti salernitani. Che tipo di perplessità hanno rispetto ad un'idea simile? È un'idea necessaria, ripeto, che già è battuta, solo che è battuta a livello parziale, specifico da parte di alcuni o in maniera debole da parte delle istituzioni. Va fatto sistema con tutti, tra tutti, per difendere la nostra economia e alla fine il lavoro e le speranze dei nostri giovani.